Aspetta! Cosa è il coglione? Ma il cazzo è uscita! Di stare un po' lontano dalla banda solo tale che tutti possiamo vivere comunque il carnevale con il senso che devi vivere sono filata! Non so, un bambino. Non so, un bambino. Ma cazzo di fare qualche settimana non c'è nessuna ma cazzo di vedere Kare la una la La Parola Grazie a tutti. 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 No. 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 No.